La scuola media Ovidio ha concluso oggi il breve seminario di informazione sull'educazione culinaria destinato alle classi terze dell'istituto. Lo scopo è quello di mettere in guardia i ragazzi dagli inganni dell'industria alimentare portandoli a riflettere sulla qualità dei cibi, da preferire la bellezza estetica degli alimenti che spesso sono belli ma poco sani. I ragazzi hanno lavorato con la dottoressa Taseo dell'associazione Taseo, con Panfilo Ganzanelli dell'associazione Qualeterra sul commercio ecosolidale e questa mattina incontrano Antonucci per la presentazione di un libro. Questa cosa vale su due fronti, uno è nel merito il problema dell'alimentazione e quindi la loro competenza su questo tema, l'altro è la vicinanza con un libro, il ragionamento che facciamo in questo anno scolastico è tentare di legare le loro vite a qualche pagina scritta in modo che se la tengano, che possano avere una competenza anche su questo. Il breve ciclo si chiude oggi e spero che loro poi ne facciano un buon uso agli esami, prima di tutto sono le terze medie e poi anche nel futuro. Per educare una sana alimentazione nelle mura scolastiche è stato scelto un particolare strumento didattico, il libro Un Cuoco per Amico presentato da Alessandro Antonucci e Tiziana Tauci, animatori della casa editrice Prime Vie di Corfinio. Il testo fornisce dei suggerimenti per accostare gli alimenti e selezionarli con prudenza, nell'ottica della prevenzione delle malattie derivanti dalle cattive abitudini culinarie. Abbiamo voluto fare questa pubblicazione anche per così dare una completa informazione sull'argomento alimentazione, perché è un argomento complesso. Abbiamo visto che una cattiva alimentazione è alla base di moltissime malattie alimentari, che sono anche molto serie insomma, cioè lo vediamo anche nella storia dell'alimentazione, che i laboratori che stiamo presentando questa mattina a scuola, ci sono alcune malattie che sono nate proprio con alimenti sbagliati, uno tra i quali è proprio lo zucchero, che ha creato notoriamente problemi di natura fisiologica. Noi abbiamo realizzato questo testo che appositamente è studiato per i ragazzi, edito dalla casa editrice Prime Vie di Corfinio, e lo presentiamo nelle scuole anche con un percorso didattico, diciamo, di laboratori, attraverso i quali i ragazzi fanno anche esperienze tattili proprio sull'utilizzo dell'alimentazione, hanno quindi possibilità di sperimentare la cucina, quindi spesso facciamo loro, abbiamo fatto dei laboratori in cui addirittura hanno realizzato il formaggio, proprio a partire dal calio naturale, quindi diciamo c'è anche una riscoperta di un'alimentazione che parte proprio dal cibo sano, che è un cibo della nostra tradizione. Mutare regime alimentare nella fase della vita dove l'uomo sperimenta la pobertà e vive lo sviluppo corporeo è certamente più semplice, l'agurio ai nostri ragazzi di crescere sani. Riflettere sulla bontà di alcuni cibi piuttosto che altri è un percorso che nasce da bambini, noi stessi da genitori cerchiamo di evitare soprattutto cibi confezionati perché abbiamo visto che creano problemi ma non soltanto di allergie ma anche una serie di problematiche, pertanto capire dall'inizio la bontà di un cibo è più facile poi essere un adulto consapevole. Grazie.